Ciao a tutti ragazzi, bentornati al mio canale, sono Daniele e oggi voglio fare un video molto utile, a parere mio, per chiunque voglia iniziare a fare il dropshipping del marketplace nel 2022 o voglia semplicemente espandersi. Se non mi conosci, sono Daniele, sono un iCommerce Manager, esperto, il più esperto d'Italia nel dropshipping sui marketplace come Ebay, Amazon, Etsy e tutti quei marketplace che ti portano al traffico gratuito nel tuo negozio a costo zero. Nel mio canale troverai decine di video, video guide, esperienze, testimonial su questa tipologia di dropshipping poco diffusa in Italia e proprio oggi andremo a parlare di alcune opportunità che potresti sfruttare per ampliare o iniziare il tuo business. Detto questo, ricordati di iscriverti al canale, così mi aiuterai a crescere e a spingere questo video sempre più in alto sull'algoritmo, sulla ricerca di YouTube. E ora cominciamo subito, mi sono fatto qui un fogliettino con una piccola tabella perché ti andrò ad elencare oggi ben 5 posti, 5 marketplace dove potrai iniziare a fare dropshipping a costo zero e non solo, ho diviso questi marketplace seguendo 4 attributi, così che possiamo stirare una piccola classifica. Questi attributi sono esattamente complessità, budget, profitto e competizione. Ho assegnato a ognuno di questi marketplace un punteggio, così da poterti aiutare a comprendere il livello di difficoltà e di convenienza su qualsiasi marketplace che andiamo a discutere oggi. Questi non sono gli unici marketplace dove lavoro, dove opero, dove insegno a operare, ma sono alcuni tra i più famosi che sicuramente conoscerai. Ma iniziamo subito. Il primo marketplace che mi sento di consigliarti per il 2022, tra l'altro ho fatto molti video di recente a proposito di questo, è Facebook Marketplace, o meglio Facebook Shop. Che attenzione, non è il marketplace personale, della pagina personale, ma è il tool dedicato di Facebook ai negozianti, quindi potrei registrare il tuo negozio attraverso una pagina e vendere su Facebook e pubblicizzare i tuoi articoli su un marketplace e vendere quindi miliardi di utenti che ha Facebook gratuitamente nei tuoi prodotti. Facebook è una grossa opportunità, specialmente ora nel 2022, in cui si sta espandendo e sta migliorando il suo sistema. Ma se ne vuoi sapere di più, registri del canale, ho fatto molti video a riguardo. Ma andiamo a vedere un attimo la scala. La complessità per fare dropshipping su Facebook da 1 a 10 è 3. È estremamente semplice, sia a livello di integrazioni, sia a livello di software gestionale, sia a livello di gestione della piattaforma. È estremamente semplice alla portata di tutti. Quindi questo è assolutamente un punto a favore su Facebook. Il budget da 1 a 10 è 4. Non ti serve grandissimo budget su Facebook, ma è bene tenere in mente che Facebook paga dopo la consegna degli articoli o a 21 giorni dalla vendita. Quindi quando inizi a vendere su Facebook dovrai mettere in conto, se vendi su Facebook Shop, utilizzando il checkout dentro Facebook, puoi sempre usare il checkout esterno come su tuo sito Shopify, su PayPal, ma perderai comunque grossa parte della conversione. Quindi dovrai mettere in conto, diciamo, i primi 20 giorni di mancanza di cash flow delle vendite. Dopo il ventesimo giorno, più o meno, va a stabilizzarti e cominciare a mandarti i soldi tutti i giorni. Profitto. Da 1 a 10, profitto. Io ho assegnato un punteggio di 7. Perché puoi vendere articoli a ottimo margine, vista ancora la bassa competizione, la mole di clienti così ampia, praticamente, infinite che c'è su Facebook. Ci possiamo, per me, e soprattutto i costi, perché è gratis vendere. Non ci sono limiti di vendita. E non hai altre limitazioni, come per esempio su eBay, ci possiamo permettere di vendere gli articoli a prezzi mediamente più alti rispetto magari a eBay o Amazon. Competizione. La competizione, io ho assegnato un punteggio di 7. Perché, essendo gratis ed essendo spopolato, sta attirando un sacco di competizioni, un sacco di venditori e un sacco di dropshippers. Questo non è un problema, ragazzi, perché, come abbiamo detto, c'è una quantità di clienti così ampia che la competizione non è assolutamente un nostro problema. Quindi questo è il punteggio finale che diamo a Facebook. 3, 4, 7, 7. Non ho fatto io la media dei punteggi, però, diciamo, facilmente, la possiamo capire facilmente. Quindi abbiamo 7, 7, 14, 18, 21, diviso 4, fa più o meno 5, punto 25 di punteggio medio. Ma, in linea di massima, io apprezzo molto Facebook. Il secondo marketplace che andiamo ad analizzare oggi è Etsy. Sicuramente lo conoscerai. È uno dei marketplace più famosi al mondo. In Italia un po' meno, ma sta prendendo piede sempre di più. Ed è un marketplace che si incentra prevalentemente su oggetti fatti a mano, anche se ormai si è espanso, quindi si tratta a qualsiasi tipo di oggetto. Etsy.com Si trova in tutti i paesi mondiali. Il punteggio che io vado ad assegnare è un punteggio globale, quindi non vado a fare differenze tra mercato americano, mercato italiano, mercato inglese, ma è un punteggio proprio come piattaforma. È un marketplace che mi piace molto. Ho molta esperienza su Etsy e mi piace molto, lo trovo molto pulito come marketplace. La bisogna conoscerlo, bisogna conoscere le politiche molto attentamente. Ma andiamo a vedere la mia tabella su Etsy. La complessità da 1 a 10 io ho assegnato 6. Io ho assegnato 6 perché Etsy è un po' più macchinoso a livello di integrazioni rispetto magari a Facebook o a Ebay, ma non è così complicato. Se spendi un po' di tempo magari ti fai spiegare, per esempio da me, nei contatti, come fare esattamente le integrazioni passo passo, poiché servono diversi software da allineare tra di loro per lavorare su Etsy, alla fine verrà un meccanismo semplice e fluido ma dovrai ovviamente prima impararlo. Quindi io ho assegnato 6 perché se non sai, diciamo, se non conosci, se non spendi tempo a studiare questa metodologia è un po' più complicato arrivarci. Questo è perché io ho assegnato 6 però una volta settate le configurazioni, le integrazioni funzionano benissimo. i budget che io ho assegnato a Etsy è 4 sempre per la storia di Facebook. Etsy paga ogni settimana iniziando dopo totte di tempo, non mi ricordo ora i giorni iniziali, credo che siano 20 giorni, quindi comunque devi avere un po' di budget per affrontare il cash flow fino a quando per affrontare le spese fino a quando il cash flow non inizia a confluire nel tuo conto bancario da Etsy. però puoi vendere ad ottimo margine anche su Etsy. Il profitto che gli ho dato a Etsy da 1 a 10 è 8 molto alto perché puoi vendere a margini davvero alti e ora andiamo a vedere perché vabbè, lo possiamo dire anche stesso perché la competizione infatti l'ho assegnato 4 la competizione è molto bassa perché la competizione è molto bassa? Perché? perché è complicato integrare Etsy quindi creare un sistema di software che ti permettono di automatizzare i business perché se tu mi conosci sai benissimo che io dico sempre di automatizzare i business e fare negozi automatizzati in modo da scalare sono concetti vatti a vedere anche il mio ultimo video sono concetti che ho già affrontato tantissimo quindi possiamo tornando a Etsy possiamo vendere a margini molto alti io solitamente su Etsy vendro tra i 30 e il 40% di margine proprio perché abbiamo bassa competizione una nota su Etsy è che ovviamente come ho detto prima ha delle politiche molto stringenti soprattutto per il tipo di tipologia di articoli e devi stare attento per le sospensioni che sono molto molto facili il terzo marketplace di cui andiamo a parlare oggi è ovviamente ebay come sai questo canale tratta principalmente i dropshipping su ebay sono il maggior conoscitore del dropshipping su ebay in italia e tra i maggiori conoscitori al mondo non ho bisogno di presentarmi se sai se usi Autodes sicuramente mi conosci Autodes è un software di automazione per ebay ebay è forse anzi no sicuramente ma anche il place più semplice da cui iniziare a fare dropshipping tra questi che ti sto elencanto in generale tra tutti quindi la complessità che ho dato ebay è due perché è due perché è molto semplice esistono tantissimi software di integrazione di automazione di fornitori già pronti da mettere in pratica sempre il profilo ebay puoi già iniziare a vendere attenzione ovviamente ci sono poi decine e decine di variabili da conoscere per evitare errori madronali è per questo che ho anche un corso su ebay di ben 11 ore di registrazione video che spiegano tutte le strategie e tutti i software valla a vedere dropshipping chilometri di zero punto com trovi il link in descrizione quindi anche se è semplice iniziare è sempre un business e quindi va trattato come tale e bisogna formarsi il budget che assegna ebay è due perché perché ebay ha la fortuna di pagare di mandare i soldi ogni due giorni ogni giorno una volta che entra nel meccanismo quindi puoi avere un ritorno del cash flow molto molto veloce il profitto che ho assegnato a ebay è 7 perché ebay un altro vantaggio di ebay è che ti permette di avere delle spese molto molto basse di gestione e anche se venderai a margini più bassi rispetto a facebook e ex perché c'è più competizione infatti ho assegnato alla competizione 8 come punteggio ti permetterà di avere costi più bassi un'automazione più completa perché ebay è quello che ha una vasta scelta di software di automazione più completa e ti permetterà di avere costi più bassi di personale di gestione in generale e quindi ti aumenta il profitto perché ragazzi il profitto non solo aumenta le vendite ma aumenta anche il profitto deriva anche tra l'abbattimento dei costi fissi come personale software e quant'altro quindi ebay è un'ottima opzione se sei soprattutto alle prime armi il quarto e penultimo marketplace di cui andiamo a parlare oggi tra l'altro ho fatto diversi video recentemente su questo marketplace è newegg.com newegg o newegg.com perché vende anche in canada newegg newegg è un marketplace molto famoso in america con più di 8 milioni di acquirenti ogni mese e tratta principalmente elettronica stessa cosa in canada quindi è un marketplace prevalentemente di categoria elettronica computer pezzi di rambio telefoni e quant'altro la complessità che ho dato a newegg è 9 è estremamente alta perché perché è difficile innanzitutto l'integrazione con newegg è estremamente difficile e se non hai qualcuno che te lo spiega come me è altamente improbabile che riesci a integrare attenzione non sto parlando di vendere su newegg sto parlando di automatizzare di collegare magari newegg agli articoli amazon e pubblicare 10.000 articoli da amazon a newegg perché ci servono le software di integrazione che non esistono per newegg e quindi dobbiamo andare a fare strane strategie di integrazione che se non conosci che inoltre conosci sono abbastanza semplici ma se non conosci è estremamente complicato arrivarci se ti interessa magari approfondire contattami sono felice di aiutarti quindi il punteggio è 9 poi tra l'altro newegg è una piattaforma abbastanza complessa di gestione gestire i resi gestire i casi gestire gli ordini non è molto intuitiva diciamo quindi tutto questo fa alzare il punteggio che io gli ho dato come livello di complessità il budget il budget che gli ho segnato a newegg è 6 6 perché newegg paga ogni 2 settimane cioè paga le vendite ogni 2 settimane però una volta che vendi poi ti pagano ogni settimana però in generale il cash flow è lento sul newegg la cosa positiva è che sul newegg hai molto margine infatti come profitto io gli ho dato 8 puoi vendere anche a margine di 50% quindi questo abbatte comunque la tua necessità di cash flow questo è un punto a favore di newegg la competizione io gli ho dato 1 perché perché ragazzi è vero che è complesso però la competizione è investamente proporzionale alla complessità più è complesso marketplace meno competizione c'è perché le barriere di ingresso per i dropshipper e per i venditori sono più alte quindi questa è una cosa che può giocare a tuo favore se sei furbo andiamo all'ultimo marketplace anche perché questo video è già diventato abbastanza lungo ricordati di iscriverti e mettere like fammi sapere nei commenti se ti piace questo genere di video la mia statistica le mie statistiche la mia questo format e sono felice di farne altri anche su altri marketplace l'ultimo marketplace di cui andiamo a parlare oggi è ovviamente Amazon tutti conosciamo Amazon non ha bisogno di presentazioni quindi andiamo a vedere velocemente un attimo la classifica sulle vendite in dropshipping su Amazon la complessità è 7 io dico 7 perché è semplice Amazon da iniziare quindi da integrare però è complesso da gestire perché Amazon è molto stringente nelle politiche nei difetti nelle metriche quindi bisogna conoscerlo il budget è 8 perché Amazon paga molto lentamente se non sbaglio ogni 21 giorni quindi hai bisogno di budget per anticipare le vendite ovviamente questo non si riferisce a Amazon FBA perché Amazon FBA è tutta un'altra storia ma solo a dropshipping su Amazon profitto e competizione sono entrambe 7 perché c'è moltissima competizione su Amazon tantissima penso che sia il marketplace più competitivo che ci sia ma è il secondo marketplace più grande perché vi dico il secondo perché prima è Facebook ricordiamoci che Facebook ha miliardi di utenti quindi potenziali clienti Amazon quindi è un'ottima opportunità se hai molto budget se hai ottimi articoli e puoi essere competitivo in generale è un'opzione molto valida che onestamente non è fra le mie preferite io preferisco tutti gli altri marketplace che vi ho elencato oggi rispetto ad Amazon ma è una scelta puramente personale non è dettata solo dai numeri ma è dettata anche un gusto personale perché marketplace si deve anche piacere Amazon non mi fa impazzire per vendere però non possiamo escluderlo la nostra classifica in quanto è l'e-commerce più grande del mondo detto questo ragazzi spero che questa classifica vi abbia credito le idee il 2022 in generale è un ottimo anzi il momento perfetto ideale per iniziare il tuo business online con il dropshipping voi mi contattate in tantissimi chiedendo informazioni io quando posso rispondo sempre ma vi ricordo in generale che non posso dare seguire gratuitamente tutti quanti quindi contattatemi su Instagram però abbiate anche un senso della realtà detto questo commenta fammi sapere cosa ne pensi di questo format grazie di avermi seguito ciao al prossimo video ciao